Musica con Marina Ciao bambini, ciao bambine, ciao mamme, ciao papà, ciao a tutti quanti e bentornati a Musica con Marina Vi starete chiedendo chissà che canzone canteremo oggi oppure chissà quale strumento useremo, giusto? Adesso tra un pochino ve lo svelo, ma lo sentite anche voi questo rumore? Ma bambini, ma avete visto? C'è una mosca che è atterrata sul mio naso, ma mosca? Io devo fare musica, bambini, è atterrata sulla mia testa, ma cosa gli diciamo allora? Mosca, ma dove va? Sulla spalla, mi aiutate a cacciarla via? Mosca! Ancora? Sciù mosca, non disturbare! Allora bimbi, mi sa che oggi le nostre bellissime maracas si trasformeranno in mosche un pochino fastidiose che si poseranno su vari punti del vostro corpo e allora sarà compito vostro di cacciarle via dicendo Sciù mosca, non disturbare! Dopodiché ovviamente suoneremo anche le maracas in un modo divertente Siete pronti? Adesso lei si riposa lì Allora tutti pronti a cacciare le mosche, a dire sciù mosca, non disturbare! Sciù mosca, non disturbare, sciù mosca, non disturbare, sciù mosca, non disturbare ho solo voglia di suonar Mi va, mi va, mi va, mi va di suonar veloce Mi va, mi va, mi va di suonar veloce Sciù mosca, non disturbare, sciù mosca, non disturbare, sciù mosca, non disturbare ho solo voglia di suonare Mi va, mi va, mi va di suonare lento Mi va, mi va, mi va di suonare lento Mi va, mi va, mi va di suonare veloce Mi va, mi va, mi va di suonare veloce Mi va, mi va, mi va di suonare veloce Mi va, mi va, mi va di suonare veloce Sciù mosca, non disturbare, sciù mosca, non disturbare, sciù mosca, non disturbare non disturbare ho solo voglia di suonar mi va mi va mi va di suonare piano mi va mi va mi va di suonare piano shu mosca non disturbare ho solo voglia di suonar mi va mi va mi va di suonare forte mi va mi va mi va di suonare forte mi va mi va mi va mi va di suonare forte shu mosca non disturbare shu mosca non disturbare shu mosca non disturbare ho solo voglia di suonar mi va mi va mi va di suonare veloce mi va mi va mi va di suonare veloce shu mosca non disturbare shu mosca non disturbare shu mosca non disturbare ho solo voglia di suonar mamma io vi faccio un applauso sono sicura che siete stati bravissimi sia a suonare che a scacciare le mosche ma quanto è divertente lo so è proprio divertente io con i miei bambini in classe mi diverto veramente tantissimo allora adesso tocca solo a voi imparare la canzone cantarla con i vostri amici con la vostra famiglia ed inventare sempre dei posti diversi dove la mosca si potrà posare bambini spero che la canzone vi sia piaciuta vi mando un grande abbraccio e ci vediamo per il prossimo video ciao ciao